grazie per l'invito a tutti gli organizzatori di questo bellissimo evento quindi un vero piacere e un onore cos'è il nuovo mondo è il mondo dell'intelligenza artificiale ma anche il mondo che ci lascia il covid 19 se vogliamo è un po cambiato le nostre vite e vorrei dare un punto di vista da matematico naturalmente l'intelligenza artificiale è qualcosa di amplissimo poi ne parlerò un pochino verso la fine della presentazione però tutto diciamo visto con gli occhi di un matematico allora a partire da questo signore su mi metto gli più chiari ti mettoni riesco a vedere le cose fini comunque questo è piercimon laplace un francese matematico fisico astronomo all'epoca era possibile avere questi scienziati incredibili che riuscivano a fare tantissime cose insieme oggi siamo tutti un pochino più come dire verticali più specialisti e vorrei citare una famosa frase di laplace di due secoli fa attenzione le date perché le date sono importanti due secoli fa dice adesso chiedo scusa qui è tradotto in inglese che ovviamente la frase originaria nel francese no possiamo considerare il presente lo stato presente dell'universo quello di oggi quello che osserviamo come l'effetto della sua storia pregressa e la causa del suo stato futuro una mente che possa conoscere che conosca in un certo momento tutte le forze che sono applicate a questo universo e la posizione di ogni singolo oggetto che costituisce la natura stessa all'universo dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo e racchiudere tutto questo in una sola formula il movimento dei più grandi corpi ed è anche dei colpi più piccoli più piccoli atomi allora questa mente a questa mente nulla sarebbe incerto e il futuro potrebbe apparire chiaro come lo è il passato allora ho messo a colori diciamo i le parole chiave e cerchiamo di dare una interpretazione diciamo un pochino più moderna no allora cos'è cosa sono le forze che tengono tutti gli oggetti dell'universo in moto sono leggi fisiche che plero galileo tutti quelli che hanno contribuito a far comprendere processi fondamentali leggi fondamentali la posizione dei singoli oggetti in un certo momento sono quelle che matematici chiamano le condizioni iniziali se volete fare le previsioni del tempo per domani per dopodomani per la prossima settimana avete bisogno di sapere com'è il tempo oggi questa è la condizione iniziale e poi avete delle equazioni che vi permettono di capire come evolverà il tempo in futuro e poi dice potrebbero questa mente potrebbe organizzare tutto una singola formula qui era un po diciamo sognatore una singola formula è un po sarebbe bellissima un po eccessivo è quello che per oggi chiameremo modello matematico c'è un insieme di equazioni che mettono insieme tutte queste componenti le leggi fisiche le condizioni iniziali le forze eccetera e poi dice questa mente questo questo modello matematico nelle mani di questa mente darebbe a questa persona a questa mente la capacità di prevedere il futuro sostanzialmente cioè fare le simulazioni del futuro allora manca solo la mente qui chi è la mente anche qui forse è un po eccessivamente ed eccessivamente ambizioso la plasma allora pensare che tutto questo possa essere chiuso alla mente di una singola persona forse un po troppo ma vorrei dire che la mente oggi è il computer ovviamente il computer è delegato a fare tutto questo ma è il computer che poi alla fine ospita tutte queste considerazioni ed è capace effettivamente di fare analisi e anche previsioni computer allora cosa sanno fare oggi i computer e cosa sanno fare i super computer quelli che hanno delle capacità eccezionali giusto per darvi un'idea diciamo di quali sono le potenze in gioco questo è il più grande super computer il numero uno è quello quello che ha la performance più 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 elevata in questo momento è computer giapponesi si chiama fugaku fino al novembre del 21 era il summit negli stati uniti e questo computer ha 7 milioni e mezzo oltre 7 milioni e mezzo di core vuol dire sostanzialmente cervelli indipendenti unità indipendenti tenete conto che il nostro pc ne ha se va bene quattro lasciate vedere effettivamente i rapporti di forza il nostro computer ha una capacità di esecuzione che è di questo numero stratosferico no 537 miliardi di flops sono milioni di miliardi ecco è un numero così grande che non riusciamo a dominare no ma per avere un'idea è come se tutte le persone del mondo tutti gli abitanti del mondo diciamo mal contati 8 miliardi ecco ogni singola persona quindi si include il bambino peranato e la persona più anziana si è messi in grado di fare operazioni al ritmo di 70 milioni al secondo quindi immaginate tutte le persone dell'universo che fanno 70 milioni di operazioni cosa sono le operazioni sono le somme le sottrazioni le moltiplicazioni le divisioni quello che fa un computer il computer non fa più di questo ok 70 milioni per ogni abitante questo vi dà un'idea della capacità di calcolo del nostro computer il rapporto col pc è 5 qui stiamo parlando 500 qui abbiamo come vedete come vedete 500 milioni l'abbiamo 5 quindi c'è un rapporto 1 a 100 milioni è la potenza di 100 milioni di pc di questo tipo insieme e la memoria anche piuttosto incredibile in gigabyte quindi miliardi di byte byte è una parola diciamo sono 5 milioni di gigabyte allora sono numeri estremamente grandi no cosa possiamo fare virtualmente tutto abbiamo una potenza abbiamo questa mente che ha una potenza virtualmente infinita eppure eppure il numero di variabili che sono possono essere immagazzinate in un computer di questo tipo è 8 per 10 alla 13 il numero di atomi in una singola cellula umana una sola cellula è 10 per 10 alla 13 è sostanzialmente uguale allora il computer più potente nel mondo non è nemmeno capace di memorizzare tutti gli atomi di una singola cellula come possiamo pensare che anche il computer più grande del mondo possa rappresentare processi fisici biologici magari se non è nemmeno capace di racchiudere l'informazione tutta l'informazione relative a una singola cellula allora questa è la chiave di lettura del tutto se pensiamo di applicare il modello la famosa formula magica di prima di laplace al per esempio descrive un processo fisiologico come funziona il nostro cuore il nostro cervello dobbiamo rinunciare l'idea di avere una descrizione completa e dobbiamo fare semplificazione dobbiamo approssimare dobbiamo ridurre altrimenti non saremo mai in grado di usare il computer e tutta la matematica esistente all'universo per arrivare a trovare qualche cosa di realmente utile dobbiamo semplificare e questo è già qualcosa di imbarazzante se vogliamo perché io sono matematico qui sono dei fiori di matematici i matematici sono tipicamente associate al concetto di esattezza allora Bertrand Russell che questa è una persona non banale dice nonostante possa sembrare un paradosso tutte le scienze esatte sono dominate dall'idea dell'approssimazione quindi non è così strano l'idea che si possa approssimare approssimare vuol dire dare a problemi dalle risposte inesatte appunto approssimate e la professoressa terracini ci dà proprio infatti qui sono analista numerico gli analisti numerici fanno l'approssimazione numerica lo dico così perché qui siamo vicino alla francia numerica numerica in francese digitale per intenderci quindi computer centro allora qual è l'idea di base e di base che voi avete un problema che volete studiare poi farò vedere degli esempi di problemi e vorreste trovare la soluzione di questi problemi la soluzione esatta quella che pesce tantissimo in matematici questa è inaccessibile è necessibile per due ragioni prima perché sono pochissimi problemi complessi che ammettono una soluzione esatta questo mi può un po stupire no perché stai ripetutati ci parlo gli studenti naturalmente alla scuola a risolvere i problemi esattamente vi danno dei problemi che sono già per quanto molto difficili addomesticati in modo tale che ammettono una soluzione esatta altrimenti voi sareste molto frustrati inevitabilmente ma i problemi reali raramente una soluzione esatta quasi mai e quando hanno anche avessero una soluzione esatta sarebbe scritta in maniera così implicita di essere praticamente inutilizzabile quindi bisogna approssimarli quindi si introduce quello che è un problema numerico quindi approssimato per definizione un problema numerico approssimato non potrà chi avere una soluzione che sarà approssimata allora la cosa fondamentale non è l'esattezza la cosa fondamentale è che questa approssimazione sia molto vicina alla soluzione esatta anche se non conoscete la soluzione esatta e qui c'è un piccolo miracolo della matematica pur non conoscendo la soluzione esatta riusciamo a stimare gli errori che facciamo quanto la soluzione approssimata soddisfa la soluzione si avvicina alla soluzione esatta avere il controllo di questo errore è fondamentale perché non vogliamo d'accordo non siamo incapaci di risolvere i problemi esattamente ma vogliamo capire di quanto stiamo sbagliando vogliamo dominare questo errore perché l'ingegnere che dovrà fare un ponte vorrà sapere esattamente scusate vorrà sapere vorrà avere una risposta nell'ambito di accuratezza che per lui è stimata sufficiente giusto per fare un esempio allora ci sono due modi diversi di studiare un problema complesso con la matematica adesso sto già cercando di proiettarmi nella logica di risolvere di voler risolvere problemi risolverli effettivamente il primo è quello che venete lì in alto il secondo è quello che vediamo qua sotto ovviamente lì ho messo sotto fuori un po' di caricatura il primo è quello basato sui modelli cioè su leggi fisiche fondamentali sulla conoscenza dall'universo quella di galileo di newton di laplace di bernulli di schrodinger di maxwell di tanti nomi importanti di boltzmann che che ricorrono nei corridoi diciamo delle facoltà di scienze delle facoltà di ingegneria quindi leggi fondamentali che esprimono concetti fisici si chiamano i principi fisici attraverso equazioni e poi alimentati da dati opportunamente forniscono le soluzioni e quella sopra è vorrei dire l'approccio classico quello che cerca di rappresentare la realtà attraverso equazioni ispirate dalla fisica quando parlo di fisica parlo di qualcosa di reale quindi può essere la fisica in senso stretto può essere la biologia può essere l'economia può essere la demografia può essere sociale eccetera eccetera ok quindi questo è quello in cui io sono cresciuto incidentalmente fino a pochi anni fa facevo solo quella roba che stava in atto poi è arrivato questo diciamo tornado dell'intelligenza artificiale che ovviamente ha cambiato le vite sta cambiando le vite di tutti cambierà sempre di più anche i matematici cambierà la vita anche dei matematici e questo è un approccio molto diverso è un approccio che si basa solo sull'esperienza non sulla teoria ci sono più equazioni non abbiamo più bisogno di giganti del passato questo è uno dei mantra di questo mondo non abbiamo più bisogno di stare sulle spalle di chi nel passato è riuscito a vedere molto lontano tanto delle leggi fondamentali ogni volta impariamo tutto di nuovo usando dei dati quindi dati che alimentano degli strumenti strani che si chiamano per esempio reti neurali poi ne parlerò e che forniscono soluzioni è come se voi aveste un bambino piccolo dovete insegnargli attraversare la strada lui non ha nessunissima idea delle distanze delle velocità delle macchine che arrivano eccetera e quindi totalmente ignaro però lo accompagnate gli fate attraversare la strada cento volte nel quartiere in cui è la speranza è che lui poi riesca a capire quando può attraversare quando non può attraversare ovviamente se poi gli cambiate quartiere poverino deve ricominciare tutto all'inizio deve rifarsi un'esperienza o nessuna teoria la base ecco questi due mondi apparentemente sono inconciliabili vi anticipo la conclusione della storia io penso che il vero progresso sarà nella combinazione di due nella integrazione di due la fusione dei due e abbiamo già tanti esempi importanti da questo punto di vista parlerò per i due terzi dal mondo di sopra senza nessuna allusione a eventi diciamo recenti quindi dal mondo dei modelli e per farlo parto dal covid parto dal covid semplicemente perché è uno degli esempi che hanno diciamo interessato tutti noi no abbiamo ancora le mascherine quindi vuol dire che la sua footpint non è ancora purtroppo insomma del tutto esaurito e si sono dette tantissime cose sul covid questo è uno degli approcci possibili dal punto di vista matematico per cercare di capire qualche cosa uno degli approcci possibili non in solo ed è quello basato sui modelli che si chiamano modelli a compartimenti allora per chi è completamente ignaro vorrei darvi un'idea poco qualitativa no torniamo indietro di due anni anzi torniamo indietro un po di più di due anni andiamo al che so primo gennaio del 2020 siamo tutti felici o comunque pensavamo di essere felici e pensiamo di essere completamente diciamo non interessati a quello che sentivamo dire un po che stesse succedendo da qualche parte no nella nell'antano est asiatico i nostri politici si rassicuravano ci dicevano che la cosa era circoscritta non avrebbe mai interessato l'italia e comunque noi saremmo stati perfettamente equipaggiati per contrastarla primo gennaio 2020 allora possiamo pensare che 60 milioni di italiani primo gennaio 2020 fossero tutti in un insieme che è quello là in alto blu s s sta per suscettibili suscettibili che cosa di contare il virus teoricamente passibili di contare il virus però tutti ancora indenni poi il 21 febbraio codogno si scopre che c'è un paziente 1 che è già contagiato in realtà poi l'abbiamo scoperto posteriori ma c'erano già persone contagiate anche in gennaio e all'inizio di febbraio solo che erano nella categoria U sta per undetected undetected vuol dire non ancora riconosciuti questo perché magari non avevano nessun sintomo erano contagiati non avevano nessun sintomo oppure avevano dei sintomi che venivano attribuiti alla malattia di stagione quindi undetected poi arriva il paziente 1 e allora si incominciano i test e quindi si capisce che qualcuno effettivamente è contagiato quindi qualcuno va nella categoria I sta per I isolati si è contagiato deve essere isolato poi gli isolati possono guarire vanno nella categoria R recover guariti oppure vanno nella categoria H ospedalizzati e poi dall'ospedale si può guarire quindi si torna in categoria R oppure si può andare in terapia intensiva T oppure si può morire E poi a un certo punto arrivano le vaccinazioni arrivano i vaccini e quindi alcune persone incominciano a vaccinarsi V1 V2 V3 prima dose seconda dose booster eccetera eccetera allora cosa vorrebbe fare un modello matematico beh vorrebbe trovare le leggi chiamiamole così per meglio dire le equazioni che permettono di capire dinamicamente come un individuo qualunque si sposta da un compartimento all'altro nel tempo allora oggi quindi 5 maggio 2022 presa da qualunque persona che sta qui in sala questa persona sta in una sola di queste categorie tranne l'ultima quindi può essere suscettibile non averlo mai fatto può averlo può essere isolato non isolato perché non sareste qua ma insomma può essere contagiato ma non identificato oppure può essere guarito dal covid no tanti di noi sono guariti dal covid vaccinato prima dose seconda dose terza dose eccetera eccetera se queste equazioni ci permettono di capire dinamicamente come questi 60 milioni di persone si spostano da quattro una all'altra abbiamo ad ogni istante temporale attenzione ad ogni istante temporale ogni tempo la fotografia precisa di quello che sta succedendo questa è l'ambizione del modello allora ovviamente non entro adesso nel merito della come si trova questo modello ma vi dico soltanto che faccia grosso modo no a tante variabili su i h eccetera eccetera tutti dipendono dal tempo t e per ogni tempo t ognuna di quelle variabili che si chiamano incognite esprime la numerosità delle persone che appartengono a quel compartimento quindi per dire il grande di t è il numero di italiani che sono isolati in casa al tempo t e così via per gli altri poi vedete che ci sono dei pallini là in alto i pallini stanno per derivate rispetto al tempo per chi non sa solo sono le derivate sono le variazioni nel tempo variazioni infinitesimi nel tempo quindi andate a vedere le differenze su due tempi erbitariamente vicini e poi dividete per moralmente la distanza tra un tempo e l'altro e avete quelle informazioni e a destra avete tutte le variabili che si frullano fra loro un sistema di equazioni cosiddette non lineari reso difficile dalla presenza di tanti coefficienti beta u beta i beta h gamma rho eccetera 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 e questa è la eredità questi coefficienti devono essere determinati sulla base dello specifico problema in esame cioè il covid si differenzia da una sardi tipo diverso si differenzia dall'influenza si differenzia da un altro virus eccetera eccetera quindi queste quantità questi coefficienti che devono essere noti di fatto dipendono da caratteristiche biologiche del virus e dipendono anche da considerazioni di carattere sociale per esempio cosa facciamo nel tempo libero eccetera eccetera quindi sono delle equazioni che sembrano deterministiche ma in realtà dipendono da tanti coefficienti che vanno dinamicamente cambiati anche perché magari cambiano le condizioni di regime si passa la zona gialla zona arancione a zona rossa si chiudono le scuole si aprono le scuole eccetera eccetera condizioni che chiameremo al contorno qui non è corretto lì al contorno perché non c'è nessun contorno c'è solo dipendenza dal tempo ma per intendo c'è una condizione ambientale allora cosa potete fare beh potete descrivere diciamo il processo per esempio questi sono i positivi da marzo dal 21 febbraio 2020 lo vedete qui fino a fino ad oggi fino a no questo è fermato ad aprile insomma comunque vediamo come l'onda pandemica ci ha interessati in alto vediamo la distribuzione delle dosi di vaccino e in alto ancora vediamo la diciamo il colore non delle singole regioni perché questa è su scala nazionale abbiamo anche su scala locale naturalmente regionale ma ma diciamo facciamo questo modulo media a livello nazionale tenendo conto della della situazione diciamo delle regioni ma possiamo anche fare qualcosa di più interessante possiamo fare le previsioni questa è la previsione fatta ieri sera alle cinque e questi sono i positivi e previsioni sono buone nel senso che stiamo andando in una direzione di spegnimento della della almeno localmente della pandemia previsione facciamo nell'arco di un mese fare previsione al di là di un mese non ha praticamente senso c'è troppo il margine di errore è troppo grande è come fare le previsione del tempo oltre una settimana no certo si possono fare però poi è meglio non crederci troppo e incidentalmente come vedete qui c'è una banda di oscillazione intorno alla previsione la riga tratteggiata è la previsione e sulla sinistra vedete la scala dei valori delle persone positive e poi c'è una banda una specie di piuma che in realtà si allarga quello è l'intervallo di confidenza c'è al 95 per cento di probabilità la previsione che stiamo facendo starà dentro quella banda il valore medio è quello espresso dalla linea tratteggiata e però diciamo ovviamente c'è una incertezza perché nulla è determinato in maniera rigorosa ma possiamo anche fare molto di più quando abbiamo un modello di questo tipo possiamo fare delle analisi di scenario future ma anche passate e ve ne faccio vedere una che riguarda il passato allora questo è questi sono i deceduti giorno per giorno da 21 febbraio 2020 fino a alla fine di aprile sono metà aprile vi faccio vedere questa questo intervallo temporale che va dal 4 novembre del 2020 a gennaio del 2021 quindi grossomodo sono quasi tre mesi allora la riga solida è quello che è successo per davvero come sono stati quanti sono stati deciditi giornalieri la riga tratteggiata è quello che sarebbe successo se conto il modello se semplicemente questo verbo lo metto molto tra virgolette se semplicemente le misure restrittive preso nel famoso decreto del 4 di novembre del 2021 del 2020 scusate quello che ha istituito per la prima volta i colori delle regioni fosse stato anticipato di 10 giorni allora secondo il modello bastava anticipare di 10 giorni quella decisione per avere un risparmio in termini di vite umane adesso lo potete vedere da voi andate a vedere l'asse e vedete il risparmio in termini di vita umane giornaliero allora un modello matematico può fare analisi di scenario futuro cosa faccio apro le scuole e chiudo apro i ristoranti li chiudo metto le mascherine non le metto ma anche andare a vedere delle situazioni tipo what if relativa al passato abbiamo usato questo modello fornivamo i risultati ogni settimana a un ministro e questi risultati poi venivano utilizzati sul tavolo di regia del governo anche per prendere informazioni diciamo per prendere decisioni che ovviamente spettano la politica ma decisioni magari più informate se volete divertirvi c'è un sito aperto si chiama epimox epi come epidemiologia mox come laboratorio di milano punto polimi punto it in cui potete usare questa dashboard questo cruscotto e andare a vedere tante cose nel passato e per il futuro è assolutamente aperto lo potete utilizzare va bene sono partito da lì per dire che la matematica può aiutare anche nel contesto reale e può aiutare rapidamente cioè iniziando subito insomma grazie alla conoscenza del passato a mettere in piedi degli strumenti che possono servire oggi Susanna ha citato l'alinghi e volevo quindi cambiare completamente ambito ma per dirvi quali sono gli ambiti anche concettuali nei quali ci spoporre no questo è lo sport da competizione quindi qui la matematica non ha non è usata per fare analisi scenario o per tra virgolette governare un processo pandemico ma per trovare forme ottimali che facciano ovviamente possibilmente che aiutino a vincere allora vorrei darvi qualche informazione su questa storia dell'america scalper che è una cosa abbastanza affascinante io non conoscevo assolutamente fino al 2001 quando lo politecnico in osanna e venne il presidente del del politecnico siamo il nostro rettore per intenderci con rassel kuz rassel kuz all'epoca era siamo un campionissimo della della vela e per dirci che un armatore un giovane imprenditore svizzero in realtà voleva creare una team di copa america di vela può nella verità generale perché la svizzera non è certamente un posto di velisti di mare naturalmente e quindi cercava consulenza al politecnico milano allora la questa chiama coppa america di vela il primo la prima competizione è la competizione più antisportiva più antica del mondo se togliete le olimpiadi la prima competizione si tenne intorno all'isola di white nel 1851 in inghilterra e nel momento in cui la regina vittoria voleva far vedere che gli inglesi avevano strapotere sul mare e quindi diciamo i concorrenti erano tutti inglesi e c'era una sola barca americana che si chiamava america ed ecco lo scuni che vedete là in alto e vinse l'america da lì in poi si chiama coppa america di vela dopo di che gli stati uniti l'hanno detenuta per 132 anni mai successo nulla di questo genere nella storia dello sport fino al 1983 quando un team che non era assolutamente dato come competitivo starli a due la vinse inaspettatamente e la vinse perché aveva un'idea geniale cioè di incominciare a importare per la prima volta dei concetti un pochino più scientifici in particolare mise per la prima volta le cosiddette alette sotto il bulbo poi magari le vediamo cioè introducendo i concetti di aerodinamica in un mondo che era dominato da dagli amatori dagli sportivi sostanzialmente non dagli appassionati e vinsero nello supporto generale da lì in poi poi ci sono state allora black magic nuova zelanda che ha vinto nel 95 al 2000 e poi al inghi che compete nell'edizione 2003 2007 e le vince e poi oracle con il multiscafo ha vinto 2010 2013 e poi ancora il team new zelanda 2017 e 2021 insomma sono pochissimi i team che vincono sono neozelandesi sono sono gli americani tipicamente e poi c'è questa eccezione di al inghi questa è la la prima barca al inghi che ha vinto nel 2000 2003 insomma swiss 64 allora io ho avuto appunto la fortuna ma per purissimo caso di essere lì e che il presidente delle pfl appunto ha chiesto a me di occuparmi del disegno della dal punto di vista matematico naturalmente io non avevo nessuna competenza di vela ma è andato a vela e allora cosa fa un matematico beh diciamo si parte da un'idea che è uno schizzo come se stesse disegnando la nuova macchina nuova macchina di formula 1 una nuova macchina da diciamo da di porta una macchina normale fa uno schizzo poi si fa una sua rappresentazione geometrica e fin qui non è tanto difficile tutto standard poi si comincia a fare invece la simulazione la simulazione porta a trovare tutto ricordatevi il discorso della plasma tutte le forze che gescono intorno la barca tutte le componenti della barca e finalmente cercare di ottimizzare questa forma ottimizzare questa forma tutto questo prima di realizzarla fisicamente tenete conto questo lavoro è durato dal novembre 2001 al grosso modo al marzo 2003 marzo 2003 si è andati in cantiere abbiamo qui un progetto di barca che era uscito dalla questa analisi matematica che è durata quasi due anni e poi poi nel cantiere nel giro di un mese si realizza la barca ma sapete già che quella barca lì avrà delle caratteristiche particolari questa è un po' l'idea di base dopodiché avete in tutto per tutto delle corsi virtuali non è computer graphics questi qui sono i risultati della simulazione numerica dove abbiamo risolto delle equazioni che poi magari vi faccio vedere e qui vedete in particolare la pressione che agisce su tutte le competizioni sono due barche in competizione quella più rossa è quella che sta inseguendo quella è la pressione in ogni punto quindi la forza quindi è una scala di colori che va dal blu minimo al rosso massimo quindi più è rossa più c'è forza quindi quella rossa sta inseguendo questo è un moto di poppa quindi sta andando dalla boa verso il porto per intenderci e quella più giallina sta precedendo a meno forza perché la barca rossa la barca che insegue porta via vento all'altra barca e qui vedete che in ogni punto virtualmente dello scafo della chiglia del bulbo delle alette ecco le famose alette e delle vele in ogni punto abbiamo un'informazione importante come quella della pressione quindi sappiamo qual è la pressione che c'è su ogni punto sappiamo anche quali sono le turbolenze che si generano dietro ad una vela sappiamo anche quali sono qual è la superficie bagnata dallo scafo e dovete minimizzare la superficie bagnata per minimizzare un certo tipo di resistenza viscosa quindi tutto questo è guidato dall'idea di avere una barca che sia la più performante possibile ecco la cosa ho recuperato questa vecchissima slide perché questa è la cosa che affascina un matematico no? nel regolamento della Coppa America di vela quella tradizionale prima che ci fossero i multiscafo quindi fino al 2010 c'è un regolamento che è di circa 400 pagine storico e in tutto questo regolamento trovate una sola formula che è questa è una disequazione algebrica quindi niente di particolarmente importante cosa dice questa formula? dice la cosa seguente dice che voi potete realizzare la barca che volete libertà totale purché la sua lunghezza L più 1.25 per la radice della superficie velica meno 9.8 per la radice cubica del displacement e grossomodo il peso diviso il numero magico 0.686 sia meno o uguale di 24 le unità di misura sono i metri 24 metri quindi voi avete una libertà infinita di farla da barca pur di soddisfare questo vincolo dopodiché uno dice siccome i gradi di libertà sono infiniti come mai tutte le barche si assomigliano così tanto perché nell'ambito di questa libertà infinita voi cercate l'optimum e l'optimum è il figlio o il risultante di tante equazioni di tanti principi fisici che sono quelli che poi governano il moto della barca e le condizioni in cui si muove eccetera eccetera le equazioni sono queste adesso non ve le sto a commentare naturalmente ma l'idea di base è che io ho delle equazioni che mi dicono cosa succedendo in acqua cosa succede in aria perché la barca sta un po' in acqua un po' in aria e poi cosa succede nell'acquisizione superficie libera cioè la superficie libera allora queste equazioni se si risolvono queste esprimono dei principi fisici la conservazione dell'energia la conservazione della massa se si risolvono vi danno punto per punto e variabili nel tempo le informazioni sulle velocità le tre componenti della velocità in ogni singolo punto della barca o intorno alla barca delle singole particelle d'aria o di acqua e le pressioni e questo è sufficiente di costruire completamente diciamo il contesto fisico nel quale voi vi state muovendo questo è un altro esempio ancora e poi come esempio mi fermo qui quindi covid interesse sociale sport poi medicina allora questo è un progetto molto ambizioso che avevo iniziato qualche anno fa ed è il progetto di realizzare un cuore matematico il cuore matematico non è un cuore materiale non è un cuore artificiale è un cuore fatto solo di equazioni poi cerchiamo di capire perché possa avere il senso diciamo andare in queste direzioni allora per fare una cosa di questo tipo appunto avete un problema molto complesso e non avete idea di quanto sia complesso il funzionamento del cuore umano e dovete cercare di tradurre questa complessità riducendola ma traducendola in qualche cosa che rispetti il significato vero del tutto volete semplificare ma non perdendo informazioni importanti allora cosa succede al nostro cuore? penso che tutti voi abbiate un'idea più o meno precisa succede la cosa seguente tipicamente c'è il cuore una pompa perché ci sono quattro camere si chiamano due atri e due ventricoli entra sangue venoso nella parte destra del cuore questo sangue venoso viene mandato attraverso una compressione ai polmoni attraverso le cosiddette arterie polmonari ai polmoni cede la CO2 e le altre sostanze tossiche in camera ossigeno questo sangue ossigenato ritorna al cuore attraverso le vene polmonari ritorna alla parte alta sinistra del cuore cuore sinistro quello che sta alla nostra sinistra si chiama atrio sinistro e poi quando la pressione nell'altro sinistro è sufficientemente alta vince la resistenza di una valvola che si chiama valvola mitrale ed entra nel ventricolo sinistro il ventricolo sinistro si gonfia si riempie di sangue fino a quando la pressione è tale da vincere la resistenza di un'altra valvola che si chiama valvola ortica allora si comprime questa è la quasi detta fase sistonica si comprime e butta sangue e ietta sangue nell'arteria aorta quello che poi lo distribuisce alle migliaia di grandi arterie miliardi di capillari quindi quando uno pensa al cuore pensa a una pompa un effetto meccanico solo che la pompa per funzionare penso la pompa di bicicletta per funzionare e potete dare dell'energia la pompa quindi potete mettervi lì e pompare quindi siete voi che trasferite l'energia oppure una pompa elettrica allora mettete la spina in una presa e a quel punto è il campo elettrico e la fa funzionare e chi dà la forza al cuore per funzionare il cuore batte ogni secondo nella nostra vita anche lì c'è uno stimolo elettrico che per nostra fortuna è spontaneo noi non dobbiamo preoccuparci di questo allora in un punto molto specifico del cuore nella parte alta del cuore destro quindi questa parte qui c'è un punto che si chiama nodo seno atriale il nodo seno atriale ci sono delle cellule che si attivano spontaneamente sono dei pacemaker naturali genera una scintilla un stimolo elettrico che dà luogo ad un campo elettrico che si propaga prima nella parte alta del cuore nei due atri e poi dopo un gate rappresentato in un altro punto si propaga nella parte inferiore del cuore quindi attenzione prima c'è l'impulso elettrico che genera il campo elettrico il campo elettrico genera un miracolo a livello cellulare perché ogni singola cellula ha dei canali che si aprono si chiamano i canali ionici quando sono stimolati e quando si aprono permettono il passaggio di ioni di calcio di fosforo di potassio dall'interno verso l'esterno questo passaggio genera un potenziale elettrico detto di transmembrana il potenziale di transmembrana sui nostri cardiomiociti che sono le diciamo le fibre infinitesime se vogliamo del nostro cuore dando luogo ad un processo di rilassamento o di contrazione e poi dovete pensare che l'effetto aggregato di tutti questi rilassamenti di contrazione sia quello che induce la fase sistonica contrattiva o diastonica dilatativa del nostro cuore quindi abbiamo l'elettricità equazione di Maxwell per chi se ne intende abbiamo tutta la biochimica a livello cellulare equazione di Fick-Sack Nagumo nomi noti che hanno diciamo poi vinto il Nobel per queste scoperte abbiamo tutta la meccanica e la meccanica è sia quella tradizionale se io do una botta quella parete crea un effetto meccanico e ho delle equazioni che la descrivono ma ho anche la meccanica attiva che è quella che è generata dalla presenza dell'elettricità quindi cose strane che diciamo le leggi cosiddette costitutive non si conoscono bene in natura e infine abbiamo il sangue il sangue sta dentro il nostro cuore ovviamente è compresso o rilassato e quindi c'è un movimento fluido dinamico che fa sì che si crei questo diciamo meccanismo virtuoso del nostro cuore che permette in ogni istante di garantire al cervello a tutta la il resto del nostro corpo il sangue necessario il nutrimento necessario naturalmente sono le valvole che si aprono si chiudono poi sono le coronarie sono quelle che portano il sangue al cuore stesso al mio cardio sono il cuore e lui non sarebbe cuore voglio dire il mio cardio il tessuto non sarebbe irrorato ecco questo è il concetto fisico generale si chiamano problemi di multifisica perché ci sono tanti capitoli della fisica interessati l'elettricità la meccanica la fluidodinamica la dinamica cellulare la dinamica valvolare eccetera eccetera è un modello multiscala multiscala perché sono dei processi che avvengono sulla scala temporale del decimillesimo di secondo fino al secondo il batterio cardiaco e anche la multiscala spaziale perché si va dalla cellula all'organo quindi è una cosa di una complicità assolutamente straordinaria ecco questo è il modello concettuale che possiamo farci ma poi a questo punto dobbiamo tradurre le equazioni e queste sono le equazioni ecco non le ho scritte tutte perché non ci stavano tutte però diciamo ho scritto le più importanti questo è un cuore matematico questo per me è un cuore nel senso che se voi riuscite a risolvere tutte queste equazioni qui tutto dipende da tutto calcolare tutte queste variabili siete in grado dovremmo essere in grado di vedere un cuore che funziona come un cuore vero allora vi faccio solo vedere a cosa si arriva non tutto il processo intermedio che sarebbe infinito questo è un esempio di come un cuore vero diciamo quello che si serve un cuore vero dal punto di vista del processo elettrico vi ricordate l'elettricità che si genera per il fatto che all'inizio quando tutto blu ecco guardate parte il nodo seno triale adesso eccolo là una scintilla determina un campo elettrico che si propaga negli atri e poi giù nei ventricoli e i colori stanno a significare la polarizzazione allora guardate c'è una scala per esempio nei ventricoli in basso va da meno 80 millivolta più 40 millivolta quindi quando è blu vuol dire che il cuore non è attivato elettricamente è alla fine della fase diastolica ok e poi comincia ad attivarsi e quindi comincia a propagarsi questo campo elettrico allora vorrei solo dirvi molto sommessamente che questo non lo vedete in clinica non c'è nessuna image in clinico per quanto raffinato è perfezionato sia che può darvi delle informazioni di questo tipo che sono dinamiche sono quantitative virtualmente in ogni punto avete un'informazione precisa di quello che sta succedendo questo ovviamente è un cuore sano e poi e qui i medici sono familiari diciamo i cardiologi sono familiari con questa mappa la chiamano la mappa di attivazione sono delle linee di livello non sono le linee di livello quando andate in montagna mette le linee di livello diciamo che uniscono fra loro punti che hanno la stessa elevazione qui unite fra loro punti che sono attivati elettricamente nello stesso istante allora il cardiologo più precisamente elettrofisiologo quando guarda la mappa di attivazione di un cuore riesce a capire se quel cuore sta funzionando bene o sta funzionando male e lo vedete a destra quello che ho calcolato dal punto di vista matematico vedete il fronte di attivazione come si sta propagando quindi il cardiologo ha questa come informazione noi abbiamo molto di più possiamo dare quello possiamo dare quello come abbiamo visto precedentemente possiamo fare scenari per esempio questo è un ventricolo di un paziente vero che ha un problema un problema dovuto alla cicatrizzazione per via di infarti precedenti un infarto genera delle regioni in cui che non sono irrorate dalle coronarie correttamente e quindi ci sono delle fibre che muoiono sostanzialmente se muoiono non possono più condurre l'elettricità da un lato e dall'altro non possono più rilassarsi e contrarsi quindi permettere il movimento armonioso del cuore quindi il cuore batte in maniera molto scoordinata quindi non riesce a garantire il flusso di sangue necessario allora che cosa fanno i medici in questi casi quando sono dei problemi di ritmo possono essere delle tachicardie o delle fibrillazioni beh tipicamente fanno quando non riescono a curarlo dal punto di vista farmacologico fanno le cosiddette ablazioni ablazioni vuol dire entrare con un catetere una sonda una telecamera e poi letteralmente andare a individuare dei punti che loro ritengono responsabili della creazione di questi microcircuiti di ritorno dell'onda elettrica e letteralmente bruciare il tessuto per interrompere questi circuiti non è purtroppo un colpo solo partono fanno una prima ablazioni poi ricostruiscono l'intera mappa c'è un ingegnere tipicamente che lo fa nella camera operatoria quindi ricostruiscono la mappa diciamo del potenziale e capiscono dove dovrà essere il secondo punto da abblare la cosa può andare avanti per ore quindi è molto invasiva e anche molto euristica se avete un eccellente cardiologo il risultato magari è buono se il cardiologo non è eccellente o non ha un'esperienza sufficiente non c'è una teoria che li guidi questo voglio dire allora quello che cerchiamo di fare in questi casi è questa è una collaborazione con l'ospedale San Raffaele di Milano è aiutarli a individuare quelli che chiamano i biomarkers cioè i comportamenti caratteristici atipici di questo ventricolo e andare a individuare in ultima analisi i punti in cui secondo noi si può abblare anche qui c'è un concetto di ottimalità matematica prima l'ottimalità era quella che conduceva a disegnare la barca migliore possibile qui è quella che conduce a individuare i punti che permettono di massimizzare l'efficienza di questo processo abblattivo per fare un esempio questa è la parte elettrica poi c'è la parte meccanica ecco questo è uno dei primi esempi penso al mondo di un cuore che batte questo è un cuore matematico questo siamo riusciti a farlo da un mese e ovviamente stiamo ancora lavorando stiamo ancora perfezionando questo è un cuore completo che sta battendo e quello che vediamo a destra sta per displacement ovvero spostamento in millimetri si fa da 0 a 16 quindi il massimo spostamento è 1.6 centimetri più di un centimetro e mezzo qui stiamo vedendo come un cuore sano sta pulsando per effetto del campo elettrico e del campo meccanico e della deformazione meccanica quindi stiamo risolvendo un problema matematicamente parlando elettromeccanico in alto vedete gli atri le quattro vene interrotte sono le vene polmonari che portano sangue poi invece quella vena quella sezione in alto grande è la sezione dell'arteria orta in basso vediamo i ventricoli eccetera eccetera questo è un altro punto di vista del cuore di prima che sta pulsando questo è uno dei primissimi esempi al mondo e poi possiamo andare a vedere la fluididinamica cioè dentro cosa sta succedendo a livello di sangue qui vediamo tre immagini questo è solo il cuore sinistro quindi vedete in alto l'atrio sinistro poi in basso il ventricolo sinistro poi vedete quelle gialle sono due valvole quella orizzontale è la valvola mitrale che lega l'atrio al ventricolo e quella obliqua è la valvola aortica che lega il ventricolo all'arteria orta allora in mezzo vedete la pressione a sinistra vediamo la velocità attenzione in un cuore sano come questo la velocità arriva fino a un metro al secondo vuol dire 36 km all'ora quindi in un cuore sano il sangue scorre molto rapidamente e a destra vediamo la formazione di vorticità cuore sano cuore non sano la situazione è ancora più caotica allora non è caos non è turbolenza ma è una transizione continua e sostenuta verso la turbolenza la situazione più difficile in assoluto da trattare matematicamente trattare numericamente per inciso qui sono dei matematici in aula usiamo le equazioni di Navistokes in domini variabili queste sono una delle equazioni della diciamo del millennio no? quelle che non hanno ancora diciamo una componente teorica da capire in particolare l'unicità in tre dimensioni e chi riuscirà a trovare questo risultato avrà il famoso milione di dollari che è stato promesso dal Filzi Institute nel 2000 qui le risolviamo le risolviamo perché perché comunque noi sappiamo che la soluzione esiste perché noi viviamo quindi in questo caso specifico c'è una soluzione ed è unica ovviamente e quindi la cerchiamo di risolvere numericamente ecco questo è primo esempio credo al mondo di un cuore che batte dal punto di vista fluidodinamico qui vedete proprio tutto il complesso il sangue che entra nel cuore sinistro sangue venoso viene mandato ai polmoni e poi rientra dentro scusate entra nel cuore destro che è quello che sta alla mia sinistra il cuore destro è destro rispetto al nostro petto per intenderci poi viene mandato ai polmoni poi torna indietro poi entra nell'atrio sinistro e poi quando quella valvola si apre vedete la valvola mitrale entra nel venticolo sinistro e quando la valvola obliqua adesso la vedete si apre ok va nella arteriola naturalmente poi possiamo usarlo anche per studiare case patologici quello che facciamo con diversi ospedali per esempio questa è una valvola un cuore regurgitante vuol dire che la valvola mitrale i suoi lembi non si chiudono perfettamente questo succede a persone della mia età a persone che hanno certa età possono incorrere in problemi di questo tipo quindi il problema è capire cosa fare se intervenire quindi riparare oppure sostituire oppure cercare di curare farmacologicamente eccetera eccetera quindi qui stiamo cercando di capire quali sono i danni generati da una valvola regurgitante per aiutare il medico a capire se è il caso di intervenire oppure no vorrei darvi un'idea della vi ricordate la famosa mente di Laplace quindi il computer quanto costa risolvere problemi di questo tipo allora i matematici non parlano di costo anzi i matematici risolvono tanto i soldi che è una nostra grande fortuna cioè litighiamo molto poco perché diciamo tipicamente i dipartimenti di matematici non sono quelli in cui si litiga tanto si litiga molto in dipartimenti in cui ci sono tanti problemi di soldi ci sono tanti soldi come fa parte della natura umana e quindi i matematici non parlano tipicamente di costi perché la matematica è associata al concetto di bellezza di esattezza di teoremi di risoluzione eccetera qui però quelle equazioni di prima del cuore devono essere risolte da un computer quindi voglio dire comunque bisogna abbiamo bisogno di una mediazione che è tutta l'approssimazione numerica a cui non vi parlo poi abbiamo bisogno di rilevare un computer allora vorrei darvi un'idea della complessità del problema risolvere un battito cardiaco quello che avete visto prima quindi un secondo di vita reale vita fisica un battito cardiaco richiede circa 48 ore su un super computer che risolve 20 milioni di incognite un super computer con 192 core core vuol dire processi di calcolo indipendenti questo dure circa 48 ore per un secondo perché è molto complessa la natura umana quindi se volete rappresentarla correttamente non esattamente non c'è nulla di esatto in questo ambito ma con un'approssimazione che giudichiamo accettabile beh insomma dovete lavorare molto dal punto di vista matematico costa circa 2000 euro la ricerca costa naturalmente quindi per la simulazione di un secondo ci sono circa 2000 euro quindi dovete avere i fondi di ricerca che dovete fare questo e dovete anche stare attenti a non dissiparli perché è molto facile sbagliare qualche cosa nel modello e quindi in quel punto lì avreste speso tanti soldi visto delle immagini molto belle ma non necessariamente affidabili non necessariamente accurate consuma circa 100 kilowattora di energia quindi la matematica anche la matematica non è green i computer non sono green non vi parlo dei dei bitcoin di quanto costano i bitcoin a livello di consumo di energia perché sono delle cifre assolutamente pazzesche produce 35 kg di CO2 e il messaggio è questo sviluppare una matematica più efficiente più accurata è fondamentale quindi il concetto di ottimalità qui si declina con il concetto di costo allora io ho parlato di modelli basati sulla comprensione fisica dei processi poi vi ho detto c'è un altro mondo che è quello dell'intelligenza artificiale e qui il terreno è molto più friabile molto meno roccioso si parla di intelligenza artificiale da tanto tempo da virtualmente vedete quasi 70 anni e la prima volta che il termine è stato coniato fu nel 55 dal gruppo di ricercatori che fecero la cosiddetta proposta di Dartmouth Dartmouth è un college negli Stati Uniti nel New Hampshire e il proposto di Dartmouth era quella di fare una conferenza dedicata all'intelligenza artificiale prima volta che usavo questo termine intelligenza artificiale la prima definizione è quella che ha dato John McCarthy che oggi si considera il padre dell'intelligenza artificiale e la prima definizione è la scienza e l'ingegneria che rendono le macchine intelligenti quindi prima volta nella storia che si associava il concetto di macchina al concetto di intelligenza la macchina era vista fino a quel momento come una esecutore di qualche cosa di qualche processo e qui si comincia a parlare di intelligenza in realtà un'altra persona Turing molto sottotraccia un autentico genio si era già posto questo problema nel 1950 quindi qualche anno prima scrive sulla rivista Mind un articolo che si chiama Computing Machine and Intelligence quindi anche lui lega il concetto di intelligenza al concetto di macchina che fa calcoli quindi calcolatore e Turing fa tantissime cose ma ne fa una in particolare che è ancora una pietra miliare diciamo nello sviluppo della intelligenza artificiale e concepisce un test che si chiama test di Turing il test di Turing è questo dice prendiamo una sala e mettiamo una paratia quindi dividiamola a metà e da una parte mettiamo un umano che pone domande una persona che fa domande dall'altra parte non si vedono questa sala questa 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 parete non è trasparente dall'altra parte ci sono un'altra persona e una macchina un computer e questa persona qui fa delle domande e riceve risposte allora Turing dice quando questa persona non è più in grado di capire se la risposta arriva ad un'altra persona da un computer beh a quel punto chiameremo il computer intelligente il computer e l'altra persona hanno il diritto di barare le loro risposte quindi possono rispondere in qualunque modo anche barando questo è il test di Turing allora formalizzarlo ovviamente è molto difficile l'intelligenza artificiale oggi è una storia di successo stiamo parlando di 70 anni dopo e vi dirò tra un momento che è una storia di successo molto recente nonostante abbia 70 anni di vita questi sono alcuni degli ambiti la visione artificiale il riconoscimento dell'immagine il riconoscimento della parola parlate con il vostro telefonino il vostro telefonino vi capisce stupefacente avete delle macchine guida autonoma perché sono capaci di interpretare non solo vedere ma anche interpretare quello che sta succedendo intorno eccetera eccetera questi sono tutti gli ambiti in cui non tutti alcuni degli ambiti in cui ci sono stati dei successi straordinari eppure eppure questo boom è molto recente è molto recente dico veramente qualcosa che ha a che fare con gli ultimissimi anni vorrei dire a partire il 2015 è molto recente perché diciamo in quegli anni lì dei ricercatori matematici introducono quelle che oggi chiamiamo le reti neurali profonde deep neural network le reti neurali ci sono dagli anni 60 ma è solo recentemente che sono le reti neurali profonde e questo è stato quello che ha cambiato lo scenario completamente e oggi diciamo che oggi non possiamo farne a meno e questo è dovuto io penso a tre fattori sostanzialmente il primo l'ho già un po' detto gli algoritmi quindi avere nuove famiglie di reti neurali vuol dire avere algoritmi nuovi più potenti eccetera più interpretativi il secondo sono i big data oggi abbiamo tantissimi dati che prima non c'erano ricordate che le reti neurali la machine learning l'intelligenza artificiale si nutre di esperienza l'esperienza si nutre di dati non di leggi teoriche ma di dati quindi oggi abbiamo i dati che permettono al computer di fare esperienza big data tanti dati e poi abbiamo dei super computer a basso prezzo relativamente parlando basso prezzo potete andare in rete e comprare tempo di calcolo in qualche super computer che fie calcoli per voi in qualche deserto dell'arizona o del wyoming fino a 20 anni fa non era assolutamente così l'università o l'azienda che voleva fare calcoli doveva adottarsi di super computer pagandolo una cifra pazzesca quindi questa è la democratizzazione del calcolo intensivo se vogliamo ecco la combinazione di questi tre fattori è quella che permette oggi di fare quello che riusciamo a fare e quindi come vedete il driver è veramente matematico allora per capirci quando si parla di intelligenza artificiale si parla di tantissime cose insieme ma io ovviamente adesso non ho il tempo nella possibilità di entrare nel merito però è una sovrastruttura dentro cui c'è il machine learning ovvero la capacità delle macchine di apprendere in maniera autonoma se non ci fosse il machine learning non ci sarebbe l'intelligenza artificiale il machine learning è potenziato soprattutto dalle reti neurali artificiali in particolare dalle reti profonde deep learning che sono quelle appunto molto recenti i dati allora i dati sono andati aumentando nel tempo in maniera incredibile e qui ho messo su Instagram la crescita di dati diciamo negli ultimi 30 anni 40 anni 40 anni questa è la prima volta in cui c'è una 86 una valutazione una stima del quanti dati ci sono nell'universo pensate di avere una biblioteca universale che contenga tutta la conoscenza dell'universo quant'era questa conoscenza nel 1996 erano 281 petabyte petabyte è un milione di miliardi quindi 281 milioni di miliardi di byte di parole o di numeri mettiamo poi è andata crescendo è andata crescendo e si stima che tra pochissimi anni 2025 ci saranno 175 zettabyte zettabyte sono mille miliardi di miliardi di byte mille miliardi di miliardi zetta è facile ricordare perché mille miliardi di miliardi è 10 alla 21 come il ventunesimo secolo e questo infatti è chiamato il secolo degli zettabyte zettasentury per intenderci ora sono numeri talmente grandi che se anche fossero un centesimo saremmo ugualmente stupiti ma saremmo comunque abbastanza indifferenti quello che secondo me invece è incredibile è la cosa seguente incredibile è scioccante se vogliamo vederlo in un certo modo oppure entusiasmante se vogliamo vederlo in un altro modo è la cosa seguente che se fate una sorta di immaginate una crescita lineare no beh la conoscenza dell'universo quadruplica ogni tre anni è come se mediamente ogni anno e mezzo si raddoppiasse il numero raddoppiasse la conoscenza dell'universo cioè tutto quello che il mondo ha prodotto in termini di conoscenza fino al 1986 dopo meno di due anni era già stato raddoppiato è ancora peggio di così perché poi la crisi di realtà è esponenziale ma anche se fosse così sarebbe ugualmente impressionante le reti neurali cosa fanno? naturalmente non ho il tempo di spiegare bene cosa fanno le reti neurali ma cercano di mimare il comportamento dei neuroni cioè cosa succede nel nostro cervello spiegata malissimo avete un input tutti avete un output per esempio io adesso metto il dito qui qui c'è una puntina di disegno non mi sono accorto e cosa faccio? istintivamente diciamo ritraggo il mio dito giusto? penso insomma no? oppure mettete la mano sul fuoco lo sapete è sulla fiamma e fate così in realtà in realtà non è tanto istintivo questo gesto perché vuol dire che lo stimolo è tradotto al cervello il nostro cervello fa qualche cosa e manda un impulso al nostro sistema diciamo meccanico scheletrico muscolo scheletrico che fa ritrarre il nostro dito ecco il processo diciamo nel cervello che fa passare da un input a un output è gestito dal complesso sistema di neuroni dei dendriti degli essoni eccetera eccetera la rete neurale vuole simulare questi processi quindi c'è una batteria di neuroni di input ogni pallino è un neurone matematico prende l'input poi c'è una uscita che sono gli output poi all'interno sono i neuroni che stanno facendo il lavoro tutti comunicano con tutto allora cosa fa il neurone c'è un impulso e poi decide se lo seleziona positivamente lo manda avanti lo trasmette tutti gli altri oppure se lo spegni perché non è sufficientemente significativo e questo è quello che si fa a livello matematico a livello matematico sono delle funzioni di trasferimento che partono dagli impulsi e generano l'output e queste funzioni di trasferimento detto per i matematici sono delle combinazioni lineari con dei coefficienti che andranno determinati sono quelle che caratterizzano la rete e poi delle funzioni diciamo di tipo sigmoidale di tipo 0,1 per intenderci magari approssimate quindi tangenti iperboliche eccetera eccetera questo è quello che fa la rete neurale allora concludo dicendo che i due mondi quello di cui ho parlato prima governato i processi fisici dalle leggi dall'universo e il secondo mondo quello dell'intelligenza artificiale il primo governato dalla teoria il secondo governato dall'esperienza cioè dai dati quindi alle reti neurali i due mondi sono molto spesso immaginati come mondi indipendenti e se andate in università qualunque la probabilità che cambiando dipartimento un dipartimento di matematica per esempio di ingegneria un dipartimento di informatica sia effettivamente così questa modalità è molto alta di fatto le opportunità staranno dal mezzo già questi due mondi comunicano oggi in tanti modi adesso non voglio entrare molto nel merito di questa il commento di questa slide ma è solo per farvi capire quanta comunicazione già ci sia tra due mondi ovvero tradotto questa è l'epoca dei dati i dati non vanno visti come elementi che permettono di costruire un'esperienza ogni volta dal nulla i dati possono servire per migliorare i modelli e i modelli possono servire per fornire nuovi dati quando non potete averli per esempio tra 20 anni andrete in un ospedale e ci sarà una macchina davanti a voi dico 20 anni ma perché sono pessimista ma sarà sicuramente molto prima magari non in tutti gli ospedali e se avete un problema di cuore per dire sono una macchina che cerchi di capire immediatamente che tipo di problema voi abbiate o se avete un problema di altro tipo quindi fare uno screening per eliminare allora questa macchina qui sarà stata addestrata l'addestramento viene da un addestramento umano tante altre persone che hanno avuto lo stesso problema vostro l'addestramento permette di trovare quei famosi parametri che caratterizzano la rete neurale attraverso processi di ottimizzazione stocastica questo è un di cui però non è che possiate dire a tutte le persone del mondo venite che addestrate le nostre macchine eccetera e quindi potete usare il cuore scusatemi il cuore matematico per generare soluzioni nuove che facciano parte di un addestramento della rete neurale questo è un esempio in cui i dati possono non esserci o non esserci nella sufficienza o non essere sufficientemente significativi e chiedete alla matematica l'aiuto per dare nuovi dati che sono in realtà soluzioni di problemi complessi che vanno a nutrire l'addestramento di reti neurali i due mondi stanno già interfacciandosi moltissimo e devo dire che quando ho cominciato il progetto del cuore quattro anni fa a Milano novembre 2017 non c'era nessuna traccia di intelligenza artificiale in tutte le nostre ricerche oggi probabilmente non c'è nessun nostro algoritmo che non usi anche intelligenza artificiale questo è un esempio un esempio in cui difficile da spiegare ma è solo immaginifico per voi in cui si vede come le equazioni differenziali quelli che stanno alla base del cuore matematico dialogano in maniera molto sinergica e con dei feedback con reti neurali di diverso tipo il mondo del futuro è quello che cerca di sfruttare il più possibile la conoscenza pregressa quelle che i grandi scienziati del passato hanno tradotto hanno scritto nella roccia attraverso teoremi equazioni principi fondamentali e le opportunità che il mondo dei dati che il mondo dell'intelligenza artificiale ci stanno offrendo questo è mio personale punto di vista sull'algoritmo del nuovo mondo trarre il massimo beneficio possibile dalla teoria combinata con l'esperienza una volta l'esperienza era nel nuovo cimento di Galileo il laboratorio l'osservazione questa volta l'esperienza viene anche vorrei dire quasi soprattutto dalle reti neurali che elaborano big data non è loro oggi spero di aver fatto troppo troppo tardi e comunque mi fermo qui e vi ringrazio per la vostra attenzione